Si è svolto presso la Sala Romeo del Palazzo delle Culture di Giarre l'ultimo appuntamento culturale del mese di novembre intitolato Padre Pio, Costruttore di Misericordia, organizzato dall'Uni3 Sezione di Giarre. Considerata una delle figure più controverse della Chiesa Cattolica, Padre Pio da Pietralcina è stato un presbitero italiano dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Definito l'erede spirituale di San Francesco d'Assisi, è stato il primo sacerdote a portare impressi sul suo corpo i segni della crocifissione, al punto di essere soprannominato il frate stigmatizzato. Il suo sacerdozio, a causa delle precarie condizioni di salute, si è svolto dapprima in diversi conventi del Beneventano e a partire dal settembre 1916 nel convento di San Giovanni Rotondo. L'evento che forse segnò più di tutti la sua vita fu quello verificato si nel settembre 1918, quando mentre pregava ricevette in dono delle stigmate visibili, che rimasero aperte e sanguinanti per circa mezzo secolo. Ciò catalizzò su Padre Pio l'attenzione di medici, giornalisti e dei fedeli che nel corso degli anni si recarono a San Giovanni Rotondo per incontrare il Santo Frate. La Chiesa l'ha proclamato santo nel 2002 e attorno al suo esenerario umano e spirituale si è realizzata una delle più popolari e coinvolgenti esperienze di devozione religiosa mai viste. Infatti, ad oggi San Giovanni Rotondo è la prima meta di pellegrinaggio d'Italia. L'Unitredi Giarre, quindi, su forte richiesta del Presidente Onorario Sara Mondello, ha voluto dedicare quest'incontro ad uno dei santi più amati d'Italia, proprio attraverso il documentario intitolato Padre Pio, costruttore di misericordia, del regista Cesare Cuppone, prodotto dal Centro Televisivo Vaticano ed uscito in occasione della traslazione temporanea delle reliquie del Corpo del Santo nella Basilica di San Pietro lo scorso febbraio.